Un giro d'affari in poco più di sette mesi di due milioni di euro, un migliaio di clienti tra questi molti giovani e giovanissimi. Alcuni portavano agli spacciatori orologi, cellulari, catenine rubate ai genitori per procurarsi la dose. Due ragazze ventenni erano arrivate a vendere il loro corpo pur di avere la droga. Gli agenti della squadra mobile della questura di Lecco hanno posto fine a un vasto giro di spaccio, gestito da quattro diverse bande che agivano lungo la superstrada 36, arrivando però fino alle piazze dei paesi che si affacciano sull'arteria. Annone, Barzanoni, Bionno, Molteno, Suello, Civate, Galbiate, Garbagnate, Monastero, Castello Brianza e naturalmente Lecco. Quattordici le ordinanze di custodia cautelare emesse dal sostituto procuratore Silvia Zannini, otto eseguite nelle scorse ore. In manette sono finiti sette uomini e una donna di età compresa tra i 30 e 45 anni, tutti marocchini e un senegalese. Chi è riuscito a sfuggire all'arresto alle ore contate assicurano i puliziotti. I clienti, quando la consegna non avveniva a domicilio, raggiungevano la zona di spaccio da diverse province utilizzando spesso il treno. Le stazioni di Civate, sala al barro, i principali luoghi dove comprare la droga, cocaina, eroina, hashish, poi consumata nei boschi adiacenti. Il metodo era ben collaudato. Un centralinista prendeva le ordinazioni per poi gestire le consegne con i numerosi cavallini presenti sul territorio che utilizzando auto intestate a prestanome o a noleggio consegnavano la droga. 40 euro per una dose di cocaina, 20 al grammo l'eroina con il preoccupante ritorno dell'iniezione in vena, 5 euro il grammo per l'hashish. Tra le persone fermate un 42enne marocchino irregolare spacciava agli studenti nel parco di Villa Gomez e nella zona boschiva di Magianico. Gli agenti lo hanno bloccato all'alba nella sua abitazione di Pescarenico come documentano le immagini della perquisizione. Gli spacciatori, 5 regolari, sono stati fermati a Inverigo, Garbagnate Monastero, Lecco, Novara e Milano. Operazione capolinea perché lo spaccio avveniva soprattutto nei pressi delle stazioni ferroviarie, Civate e sala al barro. Giovanissimi i clienti, alcune ragazze si prostituivano per procurarsi la dose. Sì, ancora una volta questa operazione antidroga ci ha permesso di fare un po' luce su uno spaccato della vita lechese, della provincia delle chese legata allo spaccio e quindi chiaramente anche il conseguente utilizzo e consumo di sostanze stupefacenti. Un consumo ancora molto attivo da parte di diverse categorie sociali, quindi parliamo dei giovani, giovanissimi, ma anche persone più avanti con l'età, dei libri professionisti, operai, studenti, un po' tutte le categorie sociali ricomprese. Avete fermato anche lo spacciatore che agiva nel parco di Villa Gomez, un allarme che era stato lanciato più volte dai residenti della zona. Sì, in più occasioni con delle testimonianze dirette o anche in alcuni casi con degli iscritti anonimi ci avevano segnalato una situazione di fatto esistente nei pressi di Villa Gomez e anche all'interno di Villa Gomez di spaccio, anche diretto e giovanissimi. Anche qua delle osservazioni attente, un monitoraggio mirato e attività tecniche conseguenti ci hanno permesso di individuare lo spacciatore che agiva su quel territorio che adesso si trova pescarenico. Speriamo di aver contribuito a valorizzare anche lì e a dare un po' più di serenità alla popolazione sull'utilizzo, la gestione e il godimento di questo bene pubblico.